Ottava edizione Sette Colli, edizione organizzata da Fabrizio Pacifici, siamo nel pieno evento qui a Le Ristorante e Le Caracce e abbiamo un grande campione Emiliano Mazzilli che a breve avrai un grande incontro. Sì, buonasera a tutti, il 24 difenderò per la quarta volta il titolo europeo a Bergamo, andrà in diretta su Italia 1 alle ore 23.45, sarà un bellissimo match, non perdetelo, ci sarà un bel incontro, sarà molto bello e determinante. Ecco, ricordiamo la tua categoria, Pesi Leggeri, allora perciò Italia 1 alle 23.45 in diretta dunque, noi siamo in questo evento di Fair Play, perciò a breve tempo del Roma-Lazio che ci sarà proprio tra qualche giorno, tu per chi tifi? Io dico sicuramente per il cuore giallo-rosso, io grande Roma, sono in provincia, sono a Civitecchia, in provincia di Roma, ma per me la Roma è tutto. Ecco, perciò hai qualche pronostico? Spero che vinca la Roma 2-0. Ecco, perfetto, allora noi attendiamo questo tuo grande evento, siamo tutti con te, ovviamente sarà una bella emozione vederti. Sicuramente, sarà un bellissimo match, vedetelo perché ci sarà un bello spettacolo, vedrete il pugilato vero. Perfetto, molto buon volentieri, allora ti saluto e ti ringrazio. Grazie, buonasera.